Caro Professor Dotta, da persona che lavora con i social media da anni, possiamo dire che questi strumenti digitali in questa pandemia hanno giocato un ruolo fondamentale sia il positivo che è il negativo. La situazione generale che stiamo vivendo e qualche errore di comunicazione di certo non aiuta la fiducia dei cittadini. Personalmente sono convinto che vaccinarsi sia fondamentale, ma chiedo a lei tre motivi per cui io posso convincere sui social media tutti a vaccinarsi. Caro Franz, tre ragioni per vaccinarsi. La prima, per proteggere noi stessi e coloro che vivono con noi, ma anche per proteggere gli altri, a cominciare dalle persone fragili che se contraggono il virus rischiano di più. Ad esempio da clinico che segue il diabete, i pazienti diabetici che sono circa 4 milioni in Italia, so bene che se un mio paziente contrae il virus è più a rischio di ammalarsi gravemente. Seconda ragione, più persone sono protette, prima potremo procedere con le vita normale ed infatti attraverso i vaccini riusciamo a proteggersi in modo efficace e sicuro come avviene da oltre un secolo. Grazie ai vaccini infatti abbiamo eliminato o riusciamo a convivere con malattie altrimenti mortali che in passato riducevano drammaticamente la nostra speranza di vita. Terza ragione, somministrando il vaccino educhiamo il nostro sistema immunitario a riconoscere da subito il virus come nemico e combatterlo con le armi più giuste, anticorpi e una parte dei nostri globuli bianchi. Infatti sappiamo che nei soggetti non vaccinati, se si ammalano, il sistema immunitario attiva una sorta di guerra nucleare con tutte le armi possibili e immaginabili che però, invece di danneggiare il virus, spesso e volentieri danneggiano degli organi nostri vitali come ad esempio i polmoni con tutto ciò che ne conseguono.